Continua lo scontro in Aula Lars sulla finanziaria. La lunga seduta di ieri, dalle 11 fino alle 19.30, si è distinta ancora una volta come la precedente per le polemiche e gli attacchi da più parti. Una su tutte è quella scoppiata sulla legge speciale su Ibla. Un amendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, poi ritirato dallo stesso che prevedeva il rifinanziamento di un milione di euro per il capoluogo Ibleo, è infatti stato successivamente ripresentato dal pentastellato Giancarlo Cancelleri. Il tentativo di Cancelleri di far approvare il finanziamento per Ragusa, città al cui sindaco è uno sponente del Movimento 5 Stelle, è stato visto però come una mossa per favorire i grillini e ha fatto sollevare numerose critiche. E se l'emendamento che riguarda la legge speciale su Ibla non è stato votata o per mancanza del numero legale, sono stati invece bocciati finanziamenti speciali per Ortigia e il centro storico di Agrigento. I disabili potrebbero invece tirare un sospiro di sollievo. È stato di fatti approvato il comma che prevede la destinazione del 10% dei fondi regionali ai disabili gravissimi. A questi fondi, che ammontano a 34 milioni, si devono aggiungere inoltre i 20 milioni già erogati alle ex province per gli studenti diversamente abili. E se l'articolo 15 della finanziaria verrà approvato, altri 150 milioni. Le questioni in ballo sono tante e l'approvazione dello strumento finanziario non sarà certo semplice, così come si è visto da queste prime giornate di discussione in aula. Sui parlamentari siciliani però l'ombra della scadenza del 30 aprile è sempre più vicina. L'esercizio provvisorio a quel punto sarà non più prorogabile. Ci si chiede se in così pochi giorni si riuscirà finalmente a centrare l'obiettivo dell'approvazione.